27 febbraio tempo da lupi ma noi non ci fermiamo mai mi fermo a prendere le paste così vi faccio vedere dove faccio colazione e poi subito una petai a vedere se troviamo marzoni prima si fa una bella colazione dai tinti e poi si va a vedere se si trova due dormienti e buongiorno a tutti natura wild siamo ancora a marzuoli periodo è questo e si comincia a trovare qualche pezzo un interessante allora questi due e uno un po' incastratino sotto c'è un altro mi sa che l'ho un po' rotto vabbè uguale poi vediamo cosa c'è qua cosa c'è sotto questo muschiettino cosa c'è sotto questo monticino eh ora non sarà sicuramente facile vediamo un po' ma sì dai con un po' di fortuna ce la facciamo questi iniziano a essere interessanti e la 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 uno e due eccoli qua eccoli due marzuoli due dormienti e questi sono interessanti vediamo se troviamo ancora qualcosa ciao a tutti un po' di fortuna ciao a tutti 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.